Sono qui Ministro, buongiorno. Io volevo chiedere se appunto nelle rotazioni, gli esterni che per lei sono molto importanti, ci potrebbero essere quindi il ritorno di Dunfris a destra e Carlos Augusto invece che parte titolare al posto di Di Marco. Grazie. Per quanto riguarda i quinti, chiaramente sono quelli che spendono più di tutti quanti per sistema, per modulo, quindi chiaramente cercherò sempre di cambiare le partite in corso. Li cambio quasi sempre perché hanno necessità, abbiamo una necessità di averli. Purtroppo in questo momento ci manca Quadrado che aveva fatto il primo mese molto molto bene e poi ha avuto questa infiammazione che non lo lascia lavorare come vorrebbe. Fortunatamente ho la fortuna di avere Darmian che ha fatto il terzo l'anno scorso perfettamente in qualche partita come a Torino, come a Cagliari per far rinfiatare Dunfris in questo momento non avendo Quadrado lo fa sempre nel migliore dei modi. Corriere della Sera Ciao Simone, hai detto che la concentrazione va tenuta molto alta. Temi in maniera particolare questa partita? L'orario è diverso dal solito, l'avversario viene da tre sconfitte e l'avversario però è anche molto molto strano, ha vinto a Lisbona. È una partita che temi più di altre? Come tutte, questa ancora di più perché chiaramente in un girone così equilibrato come è uscito questo con il Real Sociedad in quarta fase abbiamo visto tutti che tipo di squadra è Sociedad e sappiamo che ogni partita sarà molto molto importante quindi ci vorrà grandissima concentrazione ma i ragazzi lo sanno, il tempo non è tanto come del resto non lo sarà neanche per i nostri avversari per prepararla. Sport Italia Ciao Simone, ce la presenti tatticamente anche in virtù del fatto che probabilmente a Salisburgo viene più adatto giocare in trasferta e si è visto anche a Lisbona come tu dicevi quanto corrono e appunto magari in trasferta gli cade meglio ecco. Una squadra che gioca bene a calcio, che ha un modulo molto aggressivo, il 4-3-1-2 è un modulo aggressivo anche se nella partita che abbiamo fatto di precampionato hanno giocato con un modulo differente quindi al di là del 4-3-1-2 con noi in Austria giocarono 4-2-3-1 quindi è una squadra che sa variare, che conosce diversi moduli che è una squadra aggressiva, che quando è in possesso verticalizza su questi attaccanti fisici e quindi bisognerà fare una partita davvero a Inter. Repubblica Buongiorno Ministro Ciao Volevo chiedere, in campionato siete lì in tre punti Inter-Milane-Juve qua in Champions è il girone forse più equilibrato di tutti ma il fatto di sapere di non poter fondamentalmente mai perdere un punto aiuta un allenatore a tenere concentrata la squadra o c'è il rischio che la squadra possa spaventarsi del fatto che già in questa fase della stagione tutto conta diciamo che ogni errore è Ma la concentrazione deve essere sempre massima insomma siamo primi nel nostro girone in Champions siamo primi in campionato ma sappiamo che sono passate 11 partite siamo a un quarto del campionato quindi ci sono tantissime partite davanti dovremmo essere bravi a non guardare a cinque giorni ma a guardare a domani come abbiamo fatto tante volte sapendo che ogni avversario ti può creare delle insidie che si chiami Salisburgo, che si chiami Torino, che si chiami Bologna e così via Tutto mercato web Buongiorno Mister Ieri abbiamo visto Allegri che ha lanciato la giacca voi allenatori a volte insomma avete emoti particolari di dare in escandescenza noi ricordiamo un po' tutti a lei capitava di perdere la voce tra la fine del periodo della Lazio e anche un po' all'inizio dell'Inter ultimamente però non le sta capitando tanto spesso le volevo chiedere come mai se perché la fanno arrabbiare di meno se perché rispondono in maniera più rapida le sue indicazioni giocatoriche in campo grazie No vabbè chiaramente mi capitava adesso mi sta capitando meno ma quest'anno mi è capitato una volta durante la settimana sto cercando di migliorarmi perché ho questo problema però ci sto lavorando per migliorare Calciomercato.com Buonasera Mister Senta io volevo chiederle invece dal punto di vista tecnico cosa manca a Pavard per diventare il bastone della destra perché per caratteristiche ci siamo un ex terzino qualità non gli mancano per andare a giocare un po' più più in là il pallone però per adesso lo vediamo ancora un po' timido da quel punto di vista palla al piede cosa è che gli manca o magari che non ha o che deve acquisire no siamo siamo e sono molto contento di di Pavard è un giocatore perfetto nel nostro sistema lo volevamo fortemente e siamo molto contenti della scelta fatta poi ci sono determinate partite dove la partita in casa col Bologna ha fatto ha fatto molto bene in quel ruolo dove è riuscito ad andare più avanti a inserirsi a dare andare col Torino l'ha fatto meno chiaramente veniva da una partita tre giorni prima con la propria nazionale fatta per 95 minuti in quel momento con l'inserimento di di Denzel dovevo fare una scelta tra lui e Darmian Darmian l'ultima partita in nazionale non aveva giocato si era allenato un giorno prima di Benji e quindi ho deciso di togliere Pavard dal campo ma sono estremamente contento di quello che ci sta dando e secondo me continuerà a migliorare calciomercato.it salve mister le chiedo se questo Lautaro Martinez per lei è da pallone d'oro grazie ma chiaramente sì sicuramente anche per il percorso fatto per per i trofei per i trofei vinti chiaramente secondo me ci deve essere lì in quella notte poi non credo che vincerà però si merita tutto quello che sta avendo e deve continuare in questo modo a lavorare giornalmente come sta facendo in questi due anni e mezzo con me al di là insomma di questo inizio anche i primi due anni ha fatto molto molto bene ah chiudiamo con le ultime due Area e poi FC Inter News ciao Simone ciao buongiorno senti che Sommer sapesse parare l'abbiamo visto anche a Torino però volevo la mia curiosità era sapere se rispetto a Onana con Sommer si è cambiato il modo la tipologia di allenamento per quanto riguarda la costruzione dal basso oppure se non ci sono non è stato c'è stato bisogno di modifiche particolari perché Onana aveva quella quella capacità coi piedi che magari Sommer non ha quindi volevo capire come era cambiata la storia no sono rimasti gli stessi principi di gioco insomma qui all'Inter con Andano vince Onana eravamo abituati molto bene ma è stato scelto Sommer anche per quello Jan è un ottimo professionista un ottimo portiere che con i piedi è bravissimo è bravissimo si sta inserendo nel migliore dei modi nei nostri principi è normale che lo stesso Onana l'Onana di settembre non era l'Onana che ha chiuso ad aprile e maggio chiaramente quando ci arriva le qualità tecniche sicuramente ce li aveva già Onana poi con l'allenamento con l'aiuto anche di Andanovic è cresciuto moltissimo col tempo Sommer ha ottime qualità anche lui tecniche sta capendo molto bene velocemente i nostri principi così come Audero e siamo contenti della scelta fatta l'ultima prego salve mister ciao buongiorno avrei fatta Michi Tarian ma gliela faccio a lei direttamente prego cosa cambia per un giocatore che in questo caso ha lasciato la nazionale e quindi in quelle due settimane può lavorare un attimo più cioè lei vede effettivamente una differenza di condizione comunque tra i giocatori oppure il fatto di essere in quelle due settimane comunque il nazionale li tiene più in allenamento comunque cioè giocare una partita come Italia e l'Inghilterra li tiene anche più in asse rispetto a partite che comunque sono importanti ma chiaramente l'allenamento è differente è differente perché non ci sono viaggi non ci sono partiti i ragazzi i pochi che sono rimasti qua si sono allenati nel migliore dei modi anche anche sabato nel cambio di Lautaro è stato inserito Klasen perché Klasen è un giocatore che è rimasto qua si è allenato molto bene con grandissima voglia e per fare l'ultimo quarto d'oro preferito inserire Klasen e non Sanchez che era arrivato con sei ore diffuso con un volo dal Venezuela con Scalo in Cile di 15 ore quindi un allenatore deve anche pensare le proprie scelte in base alla stanchezza fisica e mentale dei propri giocatori grazie buongiorno a tutti a domani ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti